Complice il clima di festa ai raduni in famiglia e tra amici, come ogni anno, spesso con gli auguri di Natale non ci si scambiano solo regali ma anche virus, che poi causano picchi di contagio da Covid e influenza. In questo scenario natalizio e sanitario, l'Abruzzo non fa eccezione, con un gran numero di malati a casa, alle prese con termometri, tamponi e medicine. Per contrastare l'incremento di contagi, la Regione e le quattro ASL hanno organizzato per domani un apposito open day con l'obiettivo di proteggere soprattutto le categorie a rischio. A Pescara, la ASL si prepara a somministrare gratuitamente e senza prenotazione il vaccino anti-Covid e quello anti-influenzale negli ambulatori territoriali dell'azienda sanitaria locale aperti al pubblico per la giornata di domani dalla mattina al pomeriggio, secondo quanto stabilito. A Pescara sarà operativo l'ambulatorio vaccinale di Via Paolini dalle ore 9 alle 18, stesso orario per il distretto sanitario di Montesilvano. A Penne e a Scafa, la finestra vaccinale sarà aperta dalle 9 alle 16. Il vaccino in uso sarà il Pfizer, la cui somministrazione è raccomandata a distanza di sei mesi dall'ultima dose di vaccino anti-Covid ricevuta o dall'ultima infezione stabilita dal test diagnostico positivo e a prescindere dal numero di eventi pregressi, secondo quanto reso noto dall'ASL di Pescara. Per saperne di più ci siamo rivolti alla dottoressa Graziella Soldato, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'ASL di Pescara, che spiega a chi e perché è raccomandato il vaccino. È raccomandata a tutti coloro che non ancora si sottopongono alla vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid e tra questi la raccomandazione va soprattutto alle categorie di fragili, agli soggetti over 60 e prioritariamente agli over 80, ma soprattutto a tutti coloro che soffrono di malattie croniche a carico dell'apparato cardiovascolare, dell'apparato respiratorio, diabetici, affetti da insufficienza renale, anche donne in gravidanza o nel postpartum. Quindi è molto importante che questi soggetti non ancora vaccinati ricorrano alla vaccinazione. Negli anni di Covid la percezione del vaccino è notevolmente cambiata. Diciamo che siamo passati dalle grandi speranze del primo anno a una certa indifferenza e quasi diffidenza nei confronti del vaccino. Secondo lei perché tutto questo? Questo dipende principalmente da una percezione generata anche da una cattiva comunicazione probabilmente. Ormai abbiamo relegato il Covid a una sorta di raffreddore e questo può essere valido per alcuni soggetti, ma per quei soggetti che ho elencato in precedenza la malattia può avere un decorso molto più grave e complicato e portare anche al decesso. Quindi è per questi soggetti che è fortemente raccomandata la vaccinazione. Tutti i farmaci possono avere effetti collaterali più o meno importanti e neppure il vaccino sfugge a questa regola. Però è importante ribadire che la vaccinazione anti-Covid è sicura, ma soprattutto efficace nel salvare vite e preservare la salute delle persone.